Il pronostico e il risultato non lo so perché purtroppo non gioco le due sfere, però ne ho una perché le servono due per vedere se uno indovina. Allora per me basta che vinciamo, punto e basta. Io sono proiettato che vado là, mi vedo la partita che ho visto con il Catanzaro, nei giusti accorgimenti tattici, perché quella poi è la tour, se non è il Catanzaro, però non bisogna prenderla, sottovalutarla sicuramente. E facciamo la partita, ci divertiamo, vinciamo e andiamo poi a lunedì a Foggia. Noi già abbiamo organizzato tutto, abbiamo il furgone pieno, anzi pienissimo e quindi siamo già pronti per la Touris, per Catanzaro e per tutte le altre partite che ci sono. Sentivo dire la parmigiana, è la cosa principale la parmigiana. Anche quello, perché poi dopo il club in un certo senso è stato non creato, vabbè è chiaro la passione principale, Saverio l'ha creata per il lupo, su questo non ci piove. Però è anche perché poi si è creata una specie di famiglia allargata, quindi la cosa importante è quella, oltretutto. Sì, ci sono dei batti becchi come tutte le famiglie, però alla fine comunque il lupo ci unisce sempre, ci arrabbiamo pure con Nicola. Ma infatti in questa famiglia allargata mi è arrivato anche un invito dal presidente per un'ipotetica cena, non ti farò domande stupide, tranquilla, non te ne faccio, però hai preso la parola. Sei sempre invitato, quello non ci sono problemi per questo, tanto paga il presidente, non paga il club, quindi... Che sei tu quindi, alla fine? Paga il presidente per tutti. Ecco, allora andiamo al pronostico e ridiamo la linea di studio. Pasquale, secondo te è Avellino Turris? 3 a 1, va. Piccolina Aurora, allora secondo te com'è questo pronostico? Avellino Turris? 4 a 1. 4 a 1. Quello di Foggia lo vuoi fare già? 1 a 3. 1 a 3? Ecco qua, per Pellegrino carichissima Aurora, carichissima. Tu ti senti dire qualcosa a proposito, Nicola, di quello che sarà la gara di Coppa Italia e anche un eventuale pronostico? Sì, io penso che, come diceva Saverio, la partita di Coppa Italia va giocata così come se fosse una partita di campionato, perché l'Avellino deve scendere in campo sempre per vincere, per dimostrare il proprio valore, il blasone di una piazza, di una città, di una provincia, che comunque ha dimostrato ancora una volta di stare vicino alla squadra. Io spero che vinciamo 3 a 0 a rete inviolate, perché abbiamo preso quattro gol in due partite, quindi ci possiamo fermare per il momento.